percorrendo le strade e i sentieri di queste colline si respira un'aria antica che sa di tradizione i filari di viti che pettinano il paesaggio appaiono immutabili uguali a quelli dei tempi di don bosco se poi ci spostiamo di poco alla abbazia di vezzolano scopriamo un piccolo gioiello dell'arte romanica incastonato tra tranquilli e assolati vigneti tutto ci parla di tempi che amiamo ma non sono più di una pace e di ritmi che nella vita quotidiana non pratichiamo più